Il piano per la riapertura delle scuole a settembre è ormai quasi pronto. Nella giornata di mercoledì 24 la bozza delle linee guida predisposte dal Comitato Tecnico Scientifico è stata presentata alle organizzazioni sindacali dalla Ministra Lucia Azzolina e oggi, giovedì 25, ci sarà il confronto in sede di Conferenza Stato-Regioni. Poi finalmente si potrà dare avvio alle procedure per consentire alle scuole di tornare a funzionare. Si parla di lezioni anche di sabato, doppi turni, smembramento delle classi per consentire le lezioni a gruppi ridotti di alunni, banchi monoposto, mascherine per gli alunni e per il personale, mensa con pasti preconfezionati da consumarsi in aula e soprattutto si lascia ampio spazio alla autonomia delle scuole. E così Azzolina sta incassando più critiche che consensi. Scontate le critiche della opposizione. Rampelli di Forza Italia, per esempio, sostiene che le alternative per evitare il doppio turno ci sono tutte. Caserme, oratori, centri culturali, biblioteche, ostelli, foresterie, immobili dismessi possono servire ad ampliare gli spazi per la didattica. Il Ministro Azzolina sostiene Rossano Sasso della Lega, sembra voler dire a enti locali, studenti, genitori e lavoratori della scuola, arrangiatevi. Azzolina, afferma sarcasticamente il deputato leghista, sembra insomma ispirarsi alla logica dell'io speriamo che me la cavo. Ma anche nella maggioranza c'è chi non è per nulla soddisfatto della situazione. Italia Viva accusa. Il Ministero dell'Istruzione non decide e lascia che le regole sulla riapertura delle scuole le decida il Comitato Tecnico Scientifico. La politica, aggiungono i parlamentari di Italia Viva, tra cui anche Gabriele Toccafondi, ha il diritto e il dovere di decidere ascoltando tutti gli esperti, Comitato Tecnico compreso. Ma solo la politica ha il dovere di prendere delle decisioni perché chi fa politica e scelto democraticamente dai cittadini, chi siede in un comitato no. L'Associazione Nazionale Presidi lamenta il fatto che le linee guida nel concreto dicono molto poco e si limitano a scaricare sui dirigenti scolastici e sulle scuole ogni decisione su come concretamente organizzare il servizio scolastico a partire da settembre. E anche i sindacati del comparto sono sulla stessa posizione. Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda, sottolinea che, continuando a delegare alle singole scuole le decisioni circa le strategie da adottare, si mina gravemente l'unitarietà degli ordinamenti e del sistema scolastico garantita dalla Costituzione e il valore legale del titolo di studio. Francesco Sinopoli, segretario nazionale della FLC-CGL, mette in guardia sulle sperequazioni territoriali che potrebbero derivare dalla mancanza di un piano organico. Il rischio, afferma Sinopoli, è che dalla linea gotica in giù avremo sempre una maggiore difficoltà ad avvicinarci alle prescrizioni delle linee guida, approfondendo le disuguaglianze già presenti nel Paese. In difesa della Ministra sono arrivate però le dichiarazioni di esponenti del Movimento 5 Stelle. Nel decreto rilancio, sottolineano la deputata Ilaria Fontana e la senatrice Bianca Laura Granato, è stato già stanziato un miliardo di euro come fondo emergenza per la ripresa dell'attività didattica a settembre, ma assicurano le due parlamentari al più presto saranno previste anche altre risorse, anche per rispondere all'eventuale ulteriore fabbisogno di organico delle singole scuole. Resta il fatto che proprio oggi il Comitato Priorità alla Scuola, con l'adesione di FLC-CGL, sindacati di base e diverse associazioni professionali e di genitori, manifesta in 60 piazze italiane per chiedere la riapertura delle scuole in presenza e in sicurezza. Il tema fondamentale è quello delle risorse, che al momento appaiono del tutto insufficienti e inadeguate. Per la verità si parla di ulteriori stanziamenti da inserire nel decreto rilancio, con un apposito emendamento che sembra in preparazione, ma per ora siamo ancora nella sfera delle buone intenzioni e il tempo purtroppo stringe, perché il decreto deve essere convertito in legge entro la metà del mese di luglio. Il problema ovviamente è caldo, caldissimo, quindi noi continueremo ad occuparcene, continuate a seguirci su questo canale, ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it, scriveteci, mandateci le vostre osservazioni, le vostre esperienze e noi ne daremo conto come sempre.